Sofano come pittore firma Sofano, infatti i suoi disegni stanno benissimo sulle pareti e anche quelli di Checchi, sebbene lui li attenda con mimica circostetta. Questi sfrattati a Ostia sono suoi e questa arduta è malinconica a fine del campionato. Nazari mostra a Torvi il proprio ritratto in verte di Brigante Busolino. È una esposizione di opere d'attori, ma la cantante Ranieri, per non confondere le due arti, si attiene dalle note di colore. Il regista scotese mette in scena un chitarrista. L'autoritratto di Edelweiss lo giudicheremo dall'originale, è piacevolissimo. Di Isa Miranda incontriamo una serie di piccoli personaggi. Bagolini, nell'escursura, è ottocentista, cerca la somiglianza col modello. Questo, per esempio, è il regista Gemina. Quando lavora con la Creta, Croccolo sostiene che l'abito fa il monaco. Peccato che questo non parli, avrebbe la battuta comica. Tra i visitatori, la scultrice Benvenuti. In questo scambio d'arti deciderà di farti attrice.